Qui con noi, Martino! Parliamo un po' di te adesso, eh? Sono impegnato in una relazione. Queste sono notizie che scottano, signori! Ultimo lavoro, uscire presto al cinema. Sì. Andate a vederlo perché è estremamente interessante. Ti ho portato un regalino. No, stasera no. Stasera mi voglio divertire. Tocco niente promesso. Che cazzo sofferti? Questo non sono scuttito. Questa cosa non porterà nulla di vuolo. Svegliati, cazzo, Martino. Martino! Svegliati, cazzo, Martino.